La sicurezza non basta! Meetab Academy per professionisti della salute Le informazioni importanti per districarsi nel mondo degli integratori Imparate a decifrare etichette complesse e normative incerte usando informazioni scientifiche per migliorare la salute dei pazienti e ottimizzare il vostro tempo In questa puntata vi parlo della differenza tra HACCP ed NACCP Voi probabilmente già sapete bene che l'HACCP è un metodo produttivo una filosofia diciamo così di controllo a livello di produzione per garantire la sicurezza degli alimenti e degli integratori HACCP sta per Hazard Analysis of Critical Control Point vuol dire che c'è un metodo all'interno del ciclo produttivo degli integratori in questo caso per andare a vedere dei punti di controllo che fanno sì che se c'è un pericolo te ne accorgi per tempo e in questa maniera vada sempre a migliorare il ciclo produttivo dal punto di vista della sicurezza Una cosa importantissima e che noi diamo per scontata giustamente perché è in funzione da tanti decenni e funziona molto molto bene A livello di sicurezza in Europa e soprattutto in Italia siamo molto all'avanguardia rispetto ad altri paesi veramente l'EFSA, l'ente per la sicurezza alimentare sta facendo un ottimo lavoro Cos'è che vorrei di più? E qui lancio una crociata in cui vorrei anche coinvolgere te che mi ascolti e che sei un professionista e che dovrebbe avere una garanzia di usare degli integratori ideali perfetti, adatti ai suoi pazienti perché HACCP non significa garantire che siano efficaci C'è un'altra filosofia che è la NACCP dove N sta per Nutrients che mira a garantire però che i nutrienti ci siano perché ripeto HACCP non garantisce che questi nutrienti ci siano e che siano efficaci, che siano nella forma biodisponibile c'è tanto lavoro da fare ancora ecco per questo mi scaglio come dire contro certi produttori di integratori che vivono ancora nel Far West ci sono poche regole e allora i furbetti vanno ad approfittare di questa deregulation e vanno a fare sì le cose sicure magari non ti avvelena, d'accordo, benissimo ma neanche ti aiuta neanche il tuo paziente sta avendo dei vantaggi se vuoi alzare la vitamina D di un tuo paziente e tu hai studiato che ci vogliono i confattori perché non basta dargli la vitamina D devi anche dargli i confattori, lo zinco devi dargli il calcio magnesio devi dargli la K2 se le quantità sono importanti insomma tu conosci, hai studiato le regole ma se poi dentro quelle pastiglie che tu gli prescrivi non ci sono le cose che dovrebbero esserci o ci sono in quantità molto inferiore beh è sempre responsabilità tua quindi insomma sto lanciando una crociata vorrei veramente andare all'EFSA e al Ministero della Salute insieme a te per creare un punto di vista su questo fatto deve esserci la garanzia che i nutrienti ci sono altrimenti il tuo lavoro viene inficiato viene messo in pericolo sono anche casi eclatanti e tristi di truffe che sono avvenute ai danni per esempio dello Shan il gruppo Shan aveva messo in commercio un integratore al mirtillo che ha dei vantaggi per quanto riguarda il potere antiossidante migliora la salute visiva tutti i claim abbastanza esagerati anche ma non è questo il punto il punto è che il mirtillo là dentro non c'era l'unica cosa che sapeva di mirtillo era il colorante rosso usato per la confezione di carta lì dentro quelle pastiglie non c'era neanche una traccia di antiossidanti questa è una truffa il prodotto era conforme all'HACCP perché è stato fatto in un ambiente salubre perlomeno ripeto non ha avvelenato i tuoi pazienti ma come si fa a garantire che l'efficacia ci sia questo è un problema ancora da risolvere ed è per questo che io qualche volta mi arrabbio e dico che il mondo degli integratori è un mondo del far west dove poi chi cerca di fare le cose fatte bene perché ce ne sono di produttori seri ma si trova svantaggiato perché un utente non esperto cosa che va a prendere? va a prendere quello che costa meno quello che ha la percezione di costo inferiore a parità di beneficio e comunque non fraintendetemi io non sto parlando di truffe come quella dello Shan in cui il produttore non aveva messo il vero antiossidante del mirtillo non è questo il punto io sono sicuro che molte cose negative che ci sono sono fatte in buona fede anche in buona fede molte volte i produttori fanno delle cose sbagliate ci sono le quantità corrette di micronutrienti segnalate in etichetta più o meno una certa percentuale nessuno è perfetto ma poi sono nella forma chimica corretta quella biodisponibile quella che veramente verrà assorbita dal corpo o è una di quelle cose lì mezze chimiche mezze sintetiche fatte solo per guardare ragioni di costo sapete che io ce l'ho a morte con la vitamina B12 nella forma di cianocobalamina perché ce ne sono quattro forme a livello industriale di B12 c'è la cianocobalamina la idrossicobalamina la metilcobalamina insomma ce ne sono quattro queste quattro forme sono tutte buone tranne la cianocobalamina che però è presente nel 98% degli integratori che trovi in commercio e ci sono studi molto molto chiari che dimostrano che la cianocobalamina non serve quasi a niente viene assorbita in quantità irrisoria quando viene presa sotto forma di integratore allora perché ce la mettono? beh, indovina un po' perché costa poco perché è resistente al calore e quindi per esempio sai quando ci sono i cibi rinforzati si trova a volte nel supermercato un succo di frutta rinforzato di vitamine lì dentro c'è sempre cianocobalamina si trovano anche vari tipi di latte rinforzati con la B12 indovina un po' c'è sempre solo la cianocobalamina perché questo rende più facile il ciclo produttivo possono aggiungerla anche prima della pastorizzazione perché resiste veramente bene al calore mentre invece l'idrossicobalamina che io sceglierei è molto molto più termolabile e quindi ti dà meno flessibilità a livello produttiva sì, però la cianocobalamina non viene assorbita tu che sei un professionista dovresti essere informato di questa cosa anche perché non sempre dall'etichetta riesci a capire che forma di B12 c'è nell'integratore che hai in mano anzi ti racconto un aneddoto quasi comico diciamo così sapete noi facciamo le analisi metabolomiche degli integratori non le analisi metabolomiche delle urine e delle persone sto riferendomi alle analisi metabolomiche fatte proprio sulle pastiglie perché? perché quelle si chiamano analisi untargeted cioè non mirate andiamo a vedere cosa diavolo c'è dentro se c'è l'uranio trovo anche l'uranio capito? invece le analisi metabolomiche delle urine dei pazienti vanno a vedere certi metaboliti che dovrebbero esserci e cercano di stimarne la quantità no, io faccio gli esami ogni batch faccio gli esami metabolomici dell'integratore così se c'è qualcosa di veramente non previsto me ne accorgo se qualcosa di previsto non c'è me ne accorgo la prima volta che abbiamo fatto gli esami abbiamo detto semplicemente al laboratorio andate a testare la B12 andate a testare varie forme di vitamine ma non li abbiamo specificato in quale forma e loro hanno trovato che non c'era quasi niente di quello che doveva esserci cosa è successo? era una cosa orribile no, loro per esempio guarda caso nella B12 andavano a testare la presenza di cianocobalamina e non l'hanno trovata perché noi usiamo la idrossicobalamina sono piccoli dettagli che ti fanno capire che è come se tutto il mondo si fosse abituato a sta schifezza è talmente diffusa sta roba sbagliata che addirittura chi ha fatto l'analisi la prima volta non si è neanche premurato di capire quali fossero le forme di B12 che usiamo noi ha detto non c'è la B12 caspita grove problema panico totale poi per fortuna non c'era la B12 schifosa quindi in realtà era una buona notizia facendo le analisi corrette ripetendole abbiamo trovato tutto quello che c'era e verificato che le quantità ci fossero ecco ma chi non fa tutto sto sbattimento scusate la parola ma è veramente uno sbattimento dover controllare non solo la purezza non solo la presenza ma anche la quantità e la forma chimica corretta insomma chi non fa tutte queste analisi questi controlli non può vantare di avere la stessa sicurezza di chi invece li fa per concludere quindi riassumo quello che volevo comunicarti in questa puntata uno diamo per scontato la sicurezza alimentare è una cosa importantissima funziona molto bene godiamo di questa cosa e diamola pure per scontata perché su questo l'HCCP fa un buon lavoro enfatizziamo però l'importanza delle forme naturali e pretendiamo come professionisti di avere la certezza di stare prescrivendo cose che poi vanno veramente dentro la cellula perché questo al momento non è garantito quindi l'NACCP quella che controlla i nutrienti non è ancora in funzione e sarebbe bello fare pressione al Ministero della Salute e all'EFSA l'ente europeo perché questo avvenga è una cosa importante terza cosa in realtà devi avere fiducia dell'azienda a cui ti affidi perché altrimenti l'effettiva presenza di nutrienti non è garantita in questo mondo del far west come lo dico io come lo descrivo io degli integratori non c'è certezza che tutti i produttori facciano quello che veramente scrivono in etichetta o che diano esattamente la quantità di nutrienti che promettono nell'etichetta anche in questo caso ci sono molte cose da sapere in più e ti esorto se non l'hai già fatto a iscriverti alla Meetup Academy perché lì diamo un sacco di informazioni e sono sicuro che avrai delle domande tue specifiche per i tuoi pazienti per le tue terapie e abbiamo tutto il team di medici nutrizionisti e biologi che sono lì solo per darti appoggio e assistenza quando tu ne hai bisogno se sei un professionista iscriviti alla Meetup Academy per avere maggiori informazioni pratiche sugli integratori per migliorare la tua formazione e risparmiare tempo è un dovere nei confronti dei tuoi pazienti e potrai ricevere risposta a tutte le domande che potrai avere e comprendere al meglio come funzionano gli integratori per entrare in Meetup Academy gratuitamente clicca sul link vicino a questo video grazie